Sono partite sabato, sabato pomeriggio e domenica sia agli ospedali di Urbino che di Fossombrone. Più o meno abbiamo vaccinato circa 400 persone. Ho parlato con il direttore di Area Vasta 1, con il quale c'è stata una fattiva collaborazione. Anche lui pensa che nei prossimi giorni si possa riprendere, si aspettano indicazioni dall'AIFA o dal governo per poterli riprendere. Penso che sia una cosa utile anche per Urbino stesso, perché la città vive molto sull'università, la scuola presenta soprattutto degli studenti. Le vaccinazioni potrebbero essere uno strumento efficace per poter riprendere tutti in presenza. L'ingresso in zona rossa anche per la Regione Marche a livello nazionale ha comportato il ritorno in idateca a distanza anche per gli studenti dell'università. Ovviamente la speranza è che il prima possibile le lezioni possano riprendere in presenza. Abbiamo fatto solo la prima settimana del secondo semestre in cui erano in presenza i ragazzi, gli studenti dei primi anni, sia delle triennali che delle magistrali. Poi siamo tornati tutti in didattica a distanza. C'è molto malumore. Già gli studenti si lamentavano che facevamo solo i primi anni. Ovviamente lo facevamo sia per rispetto delle indicazioni sia regionali che statali, ma anche per la consapevolezza della situazione che era molto critica. Quindi speriamo che andando avanti con le vaccinazioni si possa riprendere tutti in presenza. Noi abbiamo iniziato a vaccinare già da oltre una settimana. Sostanzialmente abbiamo vaccinato oltre mille colleghi e anche estendendolo in maniera ampia. Pronti a riprendere appena ci daranno ulteriori informazioni o comunque a comportarci come le linee guida ci diranno. Io mi sono vaccinato. Mi sono vaccinato una settimana fa. Grazie.